Buonasera a tutti, è davvero molto tempo che non trasmetto in diretta, credo più o meno un anno ed è per me un piacere tornare a farlo in questa occasione. Credo che, non so se vedrete questo video esattamente in diretta, però comunque lo riposterò su Instagram e forse anche, non so se si può fare su YouTube, non credo, non so, vedremo, non ricordo neanche. Forse ricordate di me quando facevo quei video sui libri che leggevo e che ho chiamato come ho definito fondamentali per chi volesse scoprire cosa era la via della mano sinistra e del luciferismo. Ed eccomi qui, naturalmente quei tempi sono passati, adesso non è cambiato il mio punto di vista sulla spiritualità, sul dialogo tra differenti filosofie e posizioni, credo, forme di spiritualità alternativa e non. Di conseguenza non potevo non aderire a questa iniziativa. Non mi avete visto per molto tempo, soltanto perché finiti i tempi della pandemia, come la maggior parte delle persone, ho preferito la realtà reale a quella, la realtà reale, la realtà di tutti i giorni da quella a quella virtuale. Quindi, anche se potete in teoria trovarmi sempre online, o almeno comunque lascio il pc acceso, poi prima o poi rispondo, tendo a vivere in una dimensione molto più centrata nella quotidianità della vita non virtuale. Quindi non ho fatto più video per quello. Però ecco, è un piacere, aspettavo appunto che arrivasse qualcuno di voi, tornare qui per parlarvi di questa iniziativa di Unione satanisti italiani, a cui mi ha invitata Gendifer, che ringrazio molto, riguardo all'arte. Si tratta di un concorso di pittura e l'opera vincitrice sarà esposta qui a Torino. E niente, io, se c'è qualcosa che accomuna i più diversi punti di vista, è proprio l'arte, oltre ad essere un piacere personale, perché è una delle cose che mi danno più piacere in questa vita, mi fanno rivalutare l'esistenza stessa. L'arte riesce ad accumulare anche le persone più diverse, e quindi anche le varie interpretazioni della via sinistra, del luciferismo, del satanismo e non solo. Proprio perché la sua caratteristica interisca è quella di poter far percepire il bello alle persone più diverse, e la sua universalità. Lo ricorderete sicuramente. Non solo per un gusto e un piacere personale, ho deciso di partecipare a questa iniziativa, ma anche e soprattutto perché in quello che è il percorso iniziatico, forse alcuni di voi mi conosceranno anche come magistra dell'ordine del fosforo, un ordine americano presente pressoché quasi in tutto il mondo occidentale, è l'importanza del fattore iniziatico per l'aspirante, il praticante, l'aspirante iniziato luciferiano. È fondamentale così come lo è per qualsiasi altro iniziato che faccia un percorso serio individualmente o in un altro tipo di contesto, a prescindere dalla mano destra, dalla mano sinistra e quant'altro. sta arrivando qualcuno. Buonas nocci, Jonathan. Grazie per essere qui. Veo che anche da Spagna stiamo parlando di un concorso di arte di pittura, anche se volete, da Spagna e paesi latinoamericani. e vorrei pubblicizzare anche in spagnolo questo evento. Non so, dovrei parlare con la fondazione dell'Unione Satanisti per vedere se può partecipare anche qualcuno che è fuori d'Italia. Questo in principio è per gli italiani, poi lo vedremo. Dicevo appunto agli spagnoli che mi stanno ascoltando che avremo anche il bando in spagnolo e che la cosa sarà aperta anche ai praticanti, ai satanisti, ai luciferiani del resto del mondo. Che comunque dovrò parlarne anche con Jennifer perché principalmente è per gli italiani, ma non solo. Ma di che cosa, questo è fondamentale e mi è piaciuto molto la sua decisione di dedicare questo concorso al femminino o femminile sacro, demoniaco, come lo chiamiamo noi. E niente, che dire? Sì, soprattutto per questo, perché io sono molto legata al femminile sacro, a Lilith, ho lavorato, ho creato più che altro musica perché non sono molto brava a dipingere, anche se comunque questo non deve precludervi via l'essere più o meno capaci alla creatività. E sono molto legata al femminile demoniaco e credo che oggi più che mai debba essere reinterpretato e vissuto in chiave luciferiana e satanica con occhi diversi dalla Lilith che ha dato l'uovo poi all'idea di Dark Lady fino alla rivendicazione dei diritti degli anni Sessanta. Lilith, l'immagine di Lilith nel 2024 ha bisogno di essere reinterpretata e vissuta e rivista da voi che la percepite, che la vivete in oggi, nel momento attuale. Scusate se trema un po', ma sto cercando di sorreggere il telefono da sola in questo momento, quindi sono un po'. E niente, quindi parlare del femminile demoniaco che non è mai abbastanza e soprattutto promuovere l'arte come strumento iniziatico fondamentale. Perché? Per tanti motivi. Primo tra tutti, che segue il nostro percorso, per esempio, converrà con me, che è un metodo che incentiva l'agnosi luciferiana. L'agnosi che cos'è? È il mezzo di conversazione interiore con il daimon, seguendo quasi un principio di vasi comunicanti, cioè l'archetipo o energia, a seconda di come voi vogliate interpretarlo, ispira voi in quanto praticanti e viceversa. e questo in un crescendo che si fissa in momentum di consapevolezza iniziatica. Quindi sì, all'interno dell'ordine, noi promuoviamo assolutamente questo, l'arte in tutte le sue forme, e quindi anche la pittura, principalmente abbiamo iniziato con la musica, perché come sapete Michael W. Ford è un musicista, ma non solo, ogni forma d'arte, secondo il nostro punto di vista, è fondamentale, perché la magia non è nient'altro che la quintessenza dell'arte stessa, la magia nel senso più alto. Oh mamma mia, siete tantissimi, e io non riesco a leggere e a rispondere a tutti insieme. Adesso devo salutarvi per forza, mi dispiace moltissimo, farò un altro video, probabilmente vi invito a partecipare al concorso Mater Obscura di Unione Statistica Italiana, dove io farò parte della giuria. Grazie a tutti, grazie a voi per condividere e grazie a voi per creare e portare avanti ogni aspetto e ogni branca di questa realtà che è la via della mano sinistra, il percorso luciferiano e satanico, una realtà in divenire che guarda al futuro. Grazie a tutti, grazie, buonasera.